Adesso ho parlato di PHP Web Backdoor Obfuscation, ovvero di metodi per nascondere dentro il codice PHP altre appurazioni di codice che consentono di mantenere accesso sul sito compromesso da parte di un attaccante. PHP è il linguaggio di programmazione che tiene in piedi la maggior parte dei siti web. È molto importante sia per un aggressore che per chi deve difendere conoscere queste metodologie per poter l'attaccante mantenere accesso il difensore, rilevare determinate intrusioni e metodologie di questo tipo. L'idea di questo talk è nata dal lavoro che faccio quotidianamente che vede sia la parte di attacco che quella di difesa. È capitato molto di frequente di trovare su siti di clienti portine di codice infetto che possono essere riconducibili a backdoor e analizzando queste porzioni di codice e approfondendo quello che veniva effettivamente fatto su questi siti web ho potuto rilevare metodologie per installare backdoor su questi siti.